Agostino Perrone, sono un bartender, lavoro a Londra da 14 anni e ho aperto il Connod Bar 9 anni fa. Il mio servizio, come lavoro io, è in chiave moderna, tradizionale, allo stesso tempo. Noi ci basiamo su quello che è il servizio d'albergo, con l'attenzione al dettaglio, la classe e l'eleganza del servizio, unito a quella che è la creatività. La creatività che deriva dal viaggio, dalla comunicazione con i nostri clienti, interagire con le persone che si incontrano, capire culture locali, provare i clienti locali e trasformarli in un'esperienza liquida che si chiama cocktail. Da 9 anni che siamo aperti siamo riusciti a creare un nuovo stile del bere miscelato, ma più che altro un nuovo stile di servizio, perché il nostro motto non è solo il cocktail, da quella che è l'esperienza del cliente, distrarre il cliente dalla sua quotidianità. Capire se un cliente ha voglia di stare da solo e solo spendere tre parole esatte che sono la chiave per farlo sentire a suo agio e farlo stare bene nel suo bar, nel tuo bar, o capire se il cliente ha voglia di parlare, se il cliente ha voglia di scoprire e di essere guidato nel mondo fantastico della mixology, del bere miscelato, della scoperta della produzione di ingredienti fatti in casa. Uno dei maestri della mixologia moderna, Dario Comini, proprietario del Nottingham Forest di Milano, è stato un pioniero in quella che è la mixologia molecolare o comunque interpretazione del bar in un'altra maniera. Sempre tenendo come punto focale la ospitalità, la cura del taglio e l'esecuzione del drink al cliente. Ha unito a questa cosa un'estrema creatività e ricerca di esecuzione, con tecniche differenti, tecniche ispirate da ricerche di laboratorio, da chef di pasticceria. Un altro personaggio che al momento sento che sta facendo un grandissimo lavoro, è di base a Londra, Luca Cinaldi e bar manager Pioriole, è un personaggio che ha una creatività immensa e tutti i suoi cocktail sono basati su un concetto ben specifico. Il cocktail è un cocktail, un cocktail buono, presentato bene, con un colore fantastico, un odore favoloso, ha un sapore delizioso e può rimanere così. Non necessariamente dobbiamo stressare il cliente con quello che è stato il processo di pensiero dietro al cocktail, la produzione di You Made e Luca è molto bravo in questo. perché riesce a presentare dei cocktail che sono assolutamente curiosi all'apparenza, il sapore è anche molto interessante e quindi riesce a accendere questa lampadina nel cliente perché vuole sapere perché è servito in questo particolare bicchiere con questa forma strana, perché è questa guarnizione, perché è fatto in questa maniera. Quindi riesce a creare una storia tra un cocktail solo con l'invisual del drinking self. Al momento sto lavorando su due o tre progetti personali, i quali svelerò a breve. Uno di questi progetti molto belli è comunque il decimo anniversario del Kornot Bar che avverrà l'anno prossimo, l'8 del 8 del 2018. Stiamo pianificando la produzione di un libro e altre attività correlate per essere sicuri che questa celebrazione sia un marchio di un percorso iniziato dieci anni fa che ha fatto la differenza nel mondo dell'ospitalità.